L'Istituto Comprensivo Garibaldi Capuana, diretto dalla dirigente scolastica Silvana Spirio, ha organizzato nella giornata della memoria che si è svolta ieri una manifestazione congiunta che ha visto coinvolte le scuole di Raffadali, Ioppolo e Sant'Elisabetta, che si è svolta presso l'Aula Consigliare del Comune di Raffadali. Tra gli interventi quelli dei vari sindaci e di Silvana Spirio, dirigente scolastica dell'Istituto, intervallati sia dall'esibizione dell'Orchestra dell'Istituto Galileo, ha concluso l'evento il coro dei Garibaldini dell'Istituto Comprensivo Garibaldi Capuana, diretto magistralmente dal maestro Dino Alonge. Oggi è la giornata della memoria, noi oggi vogliamo onorare, non celebrare, non ricordare, ma onorare la Shoah e l'Orocausto, due termini che sono troppo tristemente entrati nel vocabolario universale per una pagina troppo triste, troppo drammatica della storia dell'umanità. Shoah, sapete cosa significa, no? Termini è Shoah? E' un termine che usavano gli ebrei nel vocabolario ebraico, significa Serminio, e invece Orocausto termine presso in prestito da chi? Cosa significa Orocausto? Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale decisa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che lo ha deciso nel 2005. L'Italia, devo dire francamente, qualche anno prima, con una propria legge, aveva deciso di stabilire per il 27 di gennaio, che il giorno in cui sono stati aperti i cancelli di Auschwitz, quando l'Armata Rossa ha deciso finalmente di porre fine a quel decidio e di liberare tutti coloro che stavano in questo campo di concentramento, l'Italia, ben cinque anni prima, aveva servito di ricordare e di stabilire il giorno della memoria. Cosa significa Orocausto? Giorno, tesoro, non ti scorda di me